su un commento che mi ha fatto un utente che mi segue su twitch riguardo a questa serie di minecraft ho deciso di portarla adesso subito proprio quindi giocatore singolo come sempre e sosaria su un commento che mi ha fatto un utente che mi segue su twitch notiamo anche la live visto che funziona la riprendi partita sempre qua dove eravamo abbiamo subito tanto queste patate allora c'è da completare comunque il tetto ma non abbiamo non abbiamo pietra né carbone quindi io direi di andare a captare intanto un'ascia forse quattro piccoli una roba così ma vado a controllare un attimo se tutto ok se a mio parere mi sa di sì quindi ok va bene dai quindi riprendi ma metto un attimo la chat della live sul telefono si qualsiasi cosa posso seguire i vostri commenti perfetto allora devo craftare quindi un po mi serve allora una accetta un'ascia quindi legna ecco qua assi questi me le prendo legna terra qua no proprio la cosa principale che mi serve per adesso è la legna e la pietra poi il resto è secondario per adesso quindi iniziamo a craftare un paio di picconi 3 no servono anche per l'accetta dai nel crotto 22 vediamo se c'è dei bastoncini perché non voglio sprecare sta legna ciò è pericoloso per adesso nel crotto questa roba vado subito a dormire ok perfetto due ok due due lo intanto questo posso posare piccone metto qua questo metto qua lascia qui comunque giustamente trilassare l'uno l'altro però vabbè allora dormiamo ok allora c'è da andare in miniera voglio concludere questo albero che ora che me lo ricordo lo sto facendo la volta scorsa perché voglio ridurre al minimo l'oscurità così evitato che mi spawnino questi mostri che mi spaino mi spawnano ovunque assurdo allora ecco qua la sotto c'è un problema che devo andare a risolvere allora la squadra è qua no non riesco a colpirlo però dai mi hai facilitato un po' le cose esplodendo qua non mi lamento neanche ok ragazzi se mi state guardando potete commentarmi e decidete voi cosa facciamo uno zombie continuo a fare materia prima oppure distruggo questa parte di isola qua allora vai sì inizio a bruciare ma col carbone mi serve anche oh perché non colpisce bug sarà assurdo ma viene anche tu maiale carbone mi serve assolutamente ok direi di fare anche questo almeno qua faccio due cose con una somma una sola volta dov'è lo zombie va ne approfitto distruggo perché distruggo come si chiama questa parte di isola che mi dà fastidio per lo spawn dei mostri e al tempo stesso mi faccio la pietra che mi serve per andare a fare poi i mattoni per il piano di sopra per il tetto o è lo zombie lo sento ma non lo vedo e Grazie a tutti. Ok. Il cavolo è il zombie, è assurdo. Ah, shit. Ho droppato la spada. Fanno vedere. Cioè, il piccone volevo dire. Purtroppo i comandi di Seed of Times si fanno sentire che li sto confondendo con Mike. Ok. Tutto quel bambù lo dovrei andare a prendere. C'è un taglio netto proprio qua. Allora, vediamo. Justamente questo finisce qua. Non si scavare così fino ad arrivare dall'altra parte. Vediamo dove ci porta. Magari si trova un dungeon. Se Dio vuole, sembra manda buona. Qua non vedo niente. Torce non ne ho. Quando... Ah, vabbè, però ho gli stecchini carbone. Alla faccio subito un po' di torce. Vorrebbero implementare questa cosa su Minecraft che se tengo la torcia con la mano sinistra, illumina. Poi dipende dalla logica comunque, eh. Se la logica dice che la torcia è spenta... Questamente... Boh, non lo so. Non so come se la pensano loro. Dai, che stiamo raggiungendo qualcosa. Eccola. È arrivato dall'altra parte. Posso iniziare di qua. Sì, purtroppo, ragazzi, c'è molto da fare adesso, eh. C'è molto... Molta roba da fare per adesso. Comunque... Nella... Nella puntata precedente abbiamo fatto molto su... Crafting e questa roba qua, quindi... Cioè, alla fine ci sta. Abbiamo sprecato molti materiali, abbiamo fatto tante cose. E adesso c'è da farli invece. Eh sì. Userei anche il piccone di diamante, però... Non mi va assolutamente di sprecarlo, perché ci voglio fare anche un enchanting di efficienza per poter togliere i vetri senza che si rompano. Allora... Allora... Distruggiamo questo pilastro qua, poi ne rimangono... Ah, ne rimangono un paio, però, dai. Assurdo, Minecraft esiste dal... Forse anche prima del 2009... Ed è ancora qua come gioco oggi. Un gioco che non muore, Minecraft... Mi sa, per la tipologia di grafica non... Non passerà mai di mona. Perché di solito i giochi con una grafica potentissima... di Call of Duty, questo robocco qua, che puntano su quello. Cioè, poi con gli anni... Escono sempre le cose con grafiche migliori, ma... Cioè, se prendiamo per esempio un Minecraft... Un Fortnite... Con queste grafiche così... Che... Cioè, c'è poco da migliorare, effettivamente. Sono proprio così, perché sono fatte così, apposta. Cioè, effettivamente non è che passa di moda un gioco così. Quindi, per adesso lascio perdere questo. Scriviamo verso l'alto. Iniziamo proprio a staccare. Cioè, questo stacco proprio. Ecco, perfetto. Oh, non ci arrivo. Sì, ci arrivo. Carbone. So good. No, lì non ci arrivo. Questo carbone me lo prendo. Questo anche, quindi... Questo zombie si sta portando un po' le scatole, eh. Però lo vado ad uccidere. Comunque mi sembra che son morto soltanto una volta, se non erro su questo gioco. O forse sarò molto... 1-2 all'inizio massimo, credo. Livello 33, ragazzi, eh. Andiamo avanti. Comunque poi è da rivedere nelle puntate precedenti. Allora, dove è questo scheletro? Questo zombie del cacchio. Non lo sento neanche. Forse è sotto di me. Sarà un dungeon proprio sotto. Non è dubito, comunque. Quest'albero non può essere... Ah, no, sì, questo sì. Questo lo posso togliere. Quindi, iniziamo a scavare. Cioè, vado a rompere la legna così. Creo una scala. Questa roba per veri boscaioli, eh. Non fatelo a caso. Dai, cerchiamo di illuminare un po' tagliando tutti questi alberi. Ok. Si sta facendo anche se c'è da andare via qua. Sento questo cavolo di zombie assurdo. Carbone, non come quel carbone lì. Carbone, altro carbone. Allora, qua siamo. Se scavo, ecco. Infatti, eccomi lì. Ok. Ma me la posso fare anche qua la notte volendo. Non penso di aver problemi. Ho tolto la torcia. Pezzamola prima che... Oddio. Ogni volta apriamo questa Q del cacchio. Allora, dov'è il piccolo... Ah, ce l'ho qua. L'ha ripreso, grazie a Dio. Allora. Distruggiamo qua. Faticoso. Vediamo quanto più trovo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei stack se non erro. Ok, lo stacco si sta facendo sempre più netto. Allora, qua, non voglio sprecare il piccone. Qui siamo. Stiamo per arrivare, dai. Oh, mamma mia, madonna. Ma sempre, c'è. Ma mi sono abituato così, Sino of times, cioè. Oddio mio. Metto qua, così. Miltraggio. Questa pietra. Oddio posso anche togliere da qua per adesso. Piazza da questa parte, visto che... Qua dovrà essere tutto tolto. Qua dovrà essere tutto tolto. Allora, questo lo togliamo. No, per adesso quello no che... Forse qua no. C'è dungeon qua. Ok. Facciamo questa regga qua. E già qua c'è un taglio proprio netto che bisognerà solo andare a togliere la parte superiore. C'è proprio già lo stacco. Questa è un taglio per la parte superiore. Sì, sì, che mi ha colpito, lo so. Quindi diamo una sistemata. Tiè. Non ci muoio qua, eh. Anzi, non posso nemmeno. Non posso morire qua. Oltre allo scheletro. Assolutamente. Non è concesso. Ecco, mi ha sparato. Allora... 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 serata ritorno su metto allora non riesco da ricordare la sopra no metto le pietre nelle fornaci e iniziamo a craftare i mattoni oddio senza picconi vabbè me ne devo tornare subito o ferro guys lo scuso c'è metto la spada in secondo ok ma guarda se volete aiutarmi potete venire da questa parte se volete esplodere proprio può risultare un po' pericoloso adesso ok mi hanno aiutato anche se non di molto però non mi lamento ora non posso morire devo risalire subito non neanche cibo ok sono dentro formiamo una anzi detto troppo distante ok cibo 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 dove il cibo dove il cibo cibo non non ci abbiamo cibo ragà no non può essere non abbiamo cibo dai brucia brucia schifoso bru 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 brucia allora prendiamo oddio no vediamo un po di peso cibo dietro di me no ok dai dammi i due besci se me li faccio nella fornace un attimo una chiamata raga non cibo dietro di me no Grazie. Ragazzi mi chiamano Vodafone Cioè promozioni super mille mega Super mille messaggi e super mille Nord Oddio vabbè Eccoci qua Pesci ne abbiamo due pesci palla Dai eccolo che arriva Eccolo che arriva Ho il dito pronto Ti era Oh no magna Magna pesce Oddio Andiamo a cucinare Allora pesce palla Facciamo sto pesce qua Qua mettiamo questo Ma è che stato il pesce palla si può cucinare? Eh no Il pesce palla non si cucina infatti Un pietrisco Sì Cobblestone Ma mi sa che lo metto in inglese ragazzi Ora lo cambio Allora Mettiamo una pietra Ok Allora qua è tutto ok Se tutto si sta cucinando Metto Minecraft in inglese Allora difficoltà normale Non è bloccato Blocchiamolo subito Vuoi davvero bloccare la difficoltà del mondo? Verrà bloccato per sempre È normale E non potrai più Mai più cambiarla E sì la voglio La voglio così Deve essere così no? Se no non stiamo facendo niente Quindi grafica Lingua Chat Audio Personalizza skin Personalizza skin No Lingua Ecco Inglese Inglese canadese Inglese Zelandesco Inglese Di tutti i tipi di inglese Unite Kingdom Inglese di Unite Kingdom dai C'è anche inglese americano Ma non so che cosa cambi Ciao Mettiamo Oh Si è bloccato Ti sblocchi Inglese di Unite Kingdom Vediamo se questa cambia Forse unicode Font of Vediamo English Ma non cambia Cioè Verrete Non cambierà Assolutamente niente Ragazzi Comunque Ma si infatti Don Dai Don Back to game Eccoci qua Vediamo come si chiama Cobblestone Dark Walk Walk Va bene Dai Fa più figo L'inglese Solo perché Fatta apposta No No Sinceramente sto frequentando un corso d'inglese per impararlo Quindi Ma mettiamolo lì e vediamo cosa riesca a capire Allora Qua Questo sta finendo Quindi ci posso mettere questo carbone Qua come siamo 7 7 7 10 Diciamo così Sì ma con 7 comunque voglia se va avanti dai Allora questa pietra la posso posare un attimino qua Questa legna la posso anche mettere da parte Il pesce uomo omagno Oh ecco Oh mi hai dato un botto Non mi conviene sprecare questo pesce così ma Mi conviene a questo punto prendere le carote E magnamme le carote Perfetto Allora picconi Mi servono altri picconi Guardate ragazzi mi so finnato un attimo Ok Quindi picconi Ferro Picconi Mi faccio un botto io Così Sento uno zombie Spero non sia il piano di sopra Perché mi incazzo questo gioco Oh Ancora Ancora Perché non voglio avere più questo problema Di finiscano i picconi Allora Mettiamolo qua Un altro Me ne porto anche un altro Dai Voilà Le frecce Ma non ho neanche l'arco Quindi lo potrei anche posare Volendo Questo non mi interessa Pooperfish si chiama in inglese Wood planks Non mi interessa neanche Bone Non mi interessa Iron hoe Cookerfish Carrot Carrot Ok Andiamo a completare Questa roba Mai voglio finirla Perché veramente E che schifo Dai vieni Maiale Dove sei Qua eh Su dice Eh Eh Questo albero Non è collegato con la casa No Quindi lo posso tirare giù Ok Via Tiè Ma è proprio così Questo dritto Dai Attacca dai Sì Dai Sono qua Uno Due Tre Una Due Tre Volevo prendere anche questo bambù Me lo ero dimenticato prima Andiamo a prendere Ok Qua in sopra Non c'è più nulla Vediamo qua sotto Questi buchi Comunque questa farm È da rifare Ragazzi Questa è una roba Così temporanea Sapete che cosa vi dico Inizio proprio a toglierla Perché mi da proprio fastidio Allora È un casino veramente Comunque è fatta male Oddio Oddio sto morendo Oh Shit Dude Oh dammi Pesce Cazzo sto per perdere Tutti i livelli Raga 34 Perdevo tutti i livelli Madonna Magna Magna Dai Si è ancora giovane E forte Questo è un pericolo Pubblico Sta roba Ci cascano i bambini Muoiono Muoiono Soffocati Allora Togliamo sta roba Non sta anche male Comunque Dai Allora E la pala Non ce l'ho Giustamente Non ce l'ho Ok Vediamo Ci riesco a prenderli Si finisco tutto Ok Perfetto Dai Quindi qui c'è Dall'altra roba Ok Quasi sono Moiti Bene Sotto mi controllo Meglio O mangiare Mangia Ok Perfetto Possiamo andare Dobbiamo C'è questa roba da fare Da eliminare Questa cavolo di cose Che mi dà un fastidio Allora Il fatto che ci sia proprio Questa oscurità qua Mi dà un fastidio Fa spawnare Sti mostri Che non mi sopporto Dai Struggi tutta sta roba Pronto Mettiamo una torcia qua Ecco Vediamo se riusciamo ad arrivare Dall'altra parte Ok So good Che cosa c'è Che cavolo c'è un dungeon Qua sotto Ecco da dove arriva Eh sì Mi sa di sì Raga Eh se c'è un dungeon Abbiamo fatto centro Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Mettiamo due torce Oh Perché non si illumina Forse è per questo Che spawnano Un botto di mostri Qua Eh ma non c'è proprio Ah là va Pensavo ci fosse Chissà che cosa Oh niente C'è un dungeon Speravo Speravo Almeno in quello No Quindi questa roba Qua Ok Great La musica si fa sentire Ogni tanto Comunque Su questo gioco Ma credo Perché prima Si sentiva Si faceva sentire Più Cioè Boh Non ne ho idea Sinceramente Prima si sentiva Più spesso Era anche più Coinvolgente Comunque Oh shit Dove Ok Schiaviamo di qua Da pietraccio Vabbè Posso vedere Ah non ce l'ho qua Vero Si l'ho posata Voglio vedere Con il ricettaio Cosa riesco a fare Con il Puffish Puffish Se si dice così Eh Pixel Come si dice Il piccone Pixes Credo Credo Oddio No Questo no Un po' ok già proprio qua siamo avanti a finire oh shit quanto duro questo piccolo mi sta durando abbastanza eccolo lo scheletro cioè lo zombie volevo dire dai dai questi momenti viene proprio voglia di prendere il piccolo diamante per lo smicellare tutto ok ci stiamo mettendo un botto però andiamo avanti ok ok perfetto ok 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 ecco vediamo dove è l'altro si stava colpendo oddio ok adesso sono problemi per me oh shit ho dato la patata a vedere potato i have got potato i have got potato i have got potato bom bom che fai non puoi giocare no ricetta sbloccata guarda nel tuo libro insomma guarda nel tuo ricettario allora dai che ce la possiamo fare dai che ce la possiamo fare allora allora vai great 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 veramente stiamo per completare stiamo per completare dai ora inizio a spaccare proprio di sovra ti faccio proprio tutto lo stacco netto ecco che è partita la musica dei prezzi se vado a dormire si toglie sta musica vediamolo subito cosa mi tolgo anche in dubbio però proprio di nuovo comunque no fine mi servono più mangiare mi serve quindi carote no patate patate non posso grano perfetto craftiamo un po' di pane non è tutto il 100% però dai si può raccogliere qualcosina la maggior parte però scoccio quando è così perché non riesco oh dai le patate qua sono pronte ho sbaglio o crescono più velocemente le patate così il grano è un casino da far crescere è da poco per giunta e comunque c'è ci sta dai ci sta ok perfetto semi e altri semi grano 64 questo lo prendo grazie thank you rematch allora questo scudo di merda dov'è come lo tolgo oh posso spammare tranquillamente il tasto destro e qui e ok oh shit allora qua è da sistemare questa roba dai dammene due me l'ha dato uno ah ma un altro stack al completo proprio lo porto qua no come l'ho detto forse al completo proprio no però forse sì non vediamo no no al completo ma un botto avanti cioè diciamo che si sta per finire super big farm guys allora le patate non le voglio mangiare e metto qua così aumenta la farm faccio un investimento quindi evito di mangiarvela adesso per aumentare la produzione diminuiamo le spese e aumentiamo gli investimenti ok questi li posso raccogliere ho scelto adesso per camminare qua ok perfetto mi manca anche una scala mannaggia qua ce l'ho a posto dai allora posiamo cactus la pietra vediamo che appunto è dovrebbe essere già finita da un pezzo allora vediamo qua eh sì è finito anche ah però io riuscito a concludere fare il suo sporco lavoro quindi qua ti do questa stack qua ti do quest'altra stack qua ti do questa tieni un'altra stack questo la prendo 12 giustamente qui c'è ne 12 5 2 stanno per finire facciamo così sempre perfetto acqua ce n'è 10 però che addirittura no 64 non più va bene dai allora che dovevo fare ah sì posso tutta questa spazzatura se la pietra adesso me la riprendo sì questo lo devo tenere ok stone prendiamo la stone stones visto che sono ora ho il seno dell'albero il dirt la terra ok ah vediamo cosa posso fare col pesce palla vediamo ci dovrebbe essere qua l'a no 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 niente di interessante zucchero che non mi serve a niente per adesso ma è bon mille bon mille non lo so perché lo chiamo così però una cosa è certa è bon in inglese è osso quindi forse si chiama così in inglese vediamolo subito bon mille sii no non mi sbagliavo pal mille qua non ne abbiamo più lo so no no nothing saliamo su allora dove è 6 non usiamo per aumentare la produzione delle patate qua c'è finita c'è meravigliosi 1 2 3 oh ho sentito uno strano rumore comunque block broken ah vabbè sì forse sempre un investimento ragazzi dobbiamo investire sempre da aumentare la produzione qua c'è finita c'è me ne mancano ne mancano due cioè al prossimo giro finisco farm le scale ah quindi graffitiamo i blocchi perfetto facciamo anche la stessa cosa con questi all right greet allora le scale devo craftare qua c'è una crafting box allora così 4 scale o anche di più ne faccio ok 16 tanto le scale mi serviranno a prescindere ok perfetto chiudiamo qua qua facciamo uno stacco così perché comunque mi serve ah ecco qua manca eh sì 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 qua questo lo tolgo ci metto un blocco normale ok così come è fatto qua ma coincidono? no non coincidono per niente facciamo vedere devo lasciare uno stack in più allora questo è il blocco del il nostro quindi facciamo la stessa roba la facciamo da questa parte per fare le cose fatte meglio quindi sì riesco a prenderlo sì mi sa di no anzi sì 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 perfetto sabbia non ne ho qua vediamo se ce l'ho là sotto sabbia mi sembra di averla sì sì la devo avere dai abbiamo finito il carbone male male sta per finire va bene dai pace allora sabbia sabbia sand se lo poso sand ecco qua tiriamola su ok quindi eliminiamo concludiamo qua mettendo la sabbia anche da questa parte i cactus non sono ancora cresciuti però tanto 1,2,3 posso prendere sistemarli così senza problemi 1,2,3 perfetto perfettissimo ok adesso vediamo quanti blocchi sono fatemi capire 1,2,3 4,5 6,7,8 9 blocchi ok iniziamo a chiudere qua 9 blocchi abbiamo detto quindi le scale 1,2,3 4,5 6,7,8 9 allora 9 blocchi 1,2,3 4,5 6,7,8 9 blocchi perfetto qua chiude se non mi erro 1,2,3,4 5 facciamo che qua c'è ok 1,2,3,4 perfetto 2,2,3 ok la terra ce l'ho qua potrei anche iniziare a piazzarla non so che farm farci però intanto posso cos'è questo schifo tu da dove esci maiale muori più torce raga più torce perché così non mi spavano sti mostri del cacchio ok quindi facciamo questo quello lascio vuoto ok great l'acqua devo andare a prendere un secchiello d'acqua un secchiello non ce l'ho con me no quindi farm di meloni e di anguri perché quando trovo le anguri mi servirà anche la zucca mi sa allora un diamante io con sto diamante ci posso fare il giradischi però non sono molto convinto ma potrei andare a leder come ci penso anche intanto prendo questo ragazzi mi serve carbone questo è poco ma sicuro intanto mi sa che lo finisco ok prendiamo quello che è finito mi sa che devo mettere a cucinare la legna ma non mi conviene assolutamente devo essere scemo per farlo potrei vedere allora posso 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 fatemi vedere cosa posso fare intanto mi metto la bistecca qua e magna e magna pesce palla non posso fare niente per adesso il secchiello che devo prendere l'acqua vediamo pensiamo cosa possiamo fare dungeon purtroppo che a me interessa un casino trovarlo perché secondo me la miglior farm che produce di più è quella di meloni ho le patate e mi sa che qua abbiamo anche finito da ora in poi è tutto da mangiare da guadagnare ecco tiè oh shit non ha dato un cazzo la patata giustamente deve essere cotta ok vediamo se c'è altra terra e voglio vedere cos'altro tipo di farm che altro tipo di farm potrei farci allora quindi no che devo craftare nulla io vai esci terra ok tutto questo pietro la poso per adesso allora commestibile naturale dove 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 terra no quello che è vegetale prendilo che lo portiamo su ok diciamo che siamo a posto così ok dai io direi che ragazzi io direi di avventurarmi un attimo sull'eterne e vedere vedere che un attimo cosa si trova quindi posiamo sta roba questo anche ci prepariamo per andare là allora fatemi vedere un attimo l'armatura è combinato un po' maluccio ma è solo per andare a dare a una piccola esplorazione vedere dove ci porta sperando giustamente che se ci porta nel castello ci va proprio di lusso proprio di lusso di lusso così riesco a fare anche il robot per fare le pozioni dai sono veramente curioso e voglio vedere dove mi porta quindi mi preparo inizio a posare tutta la roba che non mi serve effettivamente quindi qua questo intanto lo chiudo così oddio 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 oh my god no 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 meglio se mi fermo qua e poi mi sa tanto che non cresce mi sa tanto che poi spawnano mob e questi qua non crescono quindi andiamo a prepararci cibo posso la roba che non mi serve 1 2 3 non mi serve un po' di pietra no non me la porto la pietra dai legna neanche vediamo se ha finito qua si allora puoi iniziare a fare questo po' di ferro allora piccone piccone non so si me li porto entrambi lascia non me ne serve neanche lascia però me la porto e questo lo lascio questo non mi serve assolutamente il secchiello no dai cioè se devo andare a cercare la lava me la trovo si però non ho bisogno adesso della lava pescare sulla lava inutile cibo si assolutamente si siccome non voglio neanche morirci porto la mela d'oro la carota d'oro ce l'ho l'ho mangiato mi sa che l'ho mangiato però me ne posso craftare una allora ecco qua nel pezzo d'oro 11 nuova ricetta c'è chi oh vabbè ma perché me la sta dando adesso non ho capito ma vabbè allora l'avevo fatto anche prima quindi non capisco vado a sistemare il ricettario comunque poco fiero allora facciamo questa roba qua le carote non mancano no dai che cavolo sto facendo ecco qua perfetto ma ora che ho l'enchanting come si faceva a enchantare la mela vediamo se riesco a farlo no ma cioè penso di fare una cazzata proprio ma fatemi controllare cioè non la mela incantata cioè penso si faceva così così sblocco anche la la cosa l'obiettivo allora lapis lazio porto questo un attimo cioè ragazzi un attimo solo per vedere si incantava così perché sinceramente non me lo ricordo e se pensa che sia l'unico unico modo no niente cioè proprio niente niente ragazzi non mi ricordo come si incantava non so se qua mi compare la ricetta no neanche c'è la roba che c'ho nulla la nostra roba lo scudo lo mettiamo pronti per andare carota e mela d'oro ok posiamo lapis lazio qua perfetto possiamo andare raga due patate un paio di roba strana qua ma ci siamo andiamo vediamo cosa ci aspetta olè vieni vediamo dove ci porta loading terrai eccoci qua oddio ma non ho oddio mi sono dimenticato l'accendino raga ma cosa mi scomparece rimango qua ci sono morto intanto mi sta laggando a base quindi penso che il mondo sia ancora in fase di spawn oh madonna vediamo gli fps è un ottimo 43 dai si stanno stabilizzando penso si il mondo si sta affendo di spawnare nuova ricetta vediamo se ci faccio con questo un'altra nuova ricetta e comunque non c'è proprio un cavolo qua ci siamo proprio sfigato ah intanto lì c'è la sabbia che quella sabbia mi serve allora sì quella sabbia mi serve però però c'è un però perché che cosa me ne faccio di quella sabbia se non trovo quella roba quella pianta strana per poter fare le pozioni è quella da quanto ne so io la trovo soltanto nei trovo soltanto nei castelli questi qua da un lotto di extra sta roba penso ok si è stabilizzato penso che è il mondo spawnato ok io adesso vado a fare un giro perché magari me lo trovo sulle vicinanze il castello una cosa siamo certi vediamo che qua non c'è c'è un botto di sabbia là meteorite cioè meteorite ma che cazzo dico dai magma big man che in teoria non mi dovrebbero attaccare non capisco come funzionano ancora sti big man ti attaccano se se li attacchi ce l'ho allora si è spama un attimo rispondo ai versati allora vediamo oddio oh fuck man una novità la volete sapere non mi ricordo dove cazzo era eh no torna dai non rischio perché non ho non ho nulla non guardiamolo ci dovrei anche riuscire oh shit no non ti ho visto io eh io non ti ho visto vai tra le ceste tranquillo oddio ma dove cazzo sono oddio raga mi sono perso allora ragazzi no non dovevo rispondere al messaggio allora cerchiamo di capirci un attimo allora no non l'ho visto allora pensa eh allora sei arrivato da da qualche parte oh shit ma prendere un po' di roba cos'è ah ma si allora tranquilli cioè io vengo in pace ah ok ok penso di aver capito era di là che sono venuto allora andiamo qua il quarzo mi sembra che era quarzo questo ah si è rotto il piccolo qua c'è l'altro quindi stavo andando di qua era oh shit no 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 non rischio raga per adesso per adesso no e purtroppo abbiamo avuto la sfiga anche che non siamo spawnati sul castello ah un po' di roba di questa la prendo pure dai nuova ricetta ah questo è oh shit oddio no dai se non è una bomba starò me ne vado me ne vado dai era di qua si era di qua prendo questo quarzo veloce e veloce dai salgo anche al 36 ok saliamo oh quanto quarzo c'è la lussuria mi sta prendendo devo lasciar perdere questa roba e non ci muoio 36 proprio si sale veloce raga se riesco a fare una libreria se riesco a portarmi quei quelle mucche che c'erano là a casa e mi faccio una bella farm basta 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 finisco questo e basta e basta dai mi posso perdere i livelli qua la sabbia dai la sabbia oh un attimo zio eh allora torniamo subito ok eccoci qua oddio un attimo rivedo un messaggio che mi ha scritto un attimo rivedo allora perfetto dai ragazzi abbiamo fatto un giro certo non ci siamo trovati dove dove volevo per avere la maggiore comodità sull'header però vabbè cioè c'è poco da fare in questo caso anche se apro un altro portale non capisco come funziona anche se ne apro un altro non mi ritrovo in un altro luogo non capisco perché quindi magari se qualcuno lo sa ve lo spiega i casi cambiano non so come forse in base al base all'ambiente ecco ma qua magari se lo riapro uno qua accanto o un poco più lontano non cambia assolutamente nulla mi rispauna sempre lì e comunque portali sull'header ce ne possono essere anche più di uno perché a me è capitato di trovarne un altro e spawnare da un'altra parte oppure non so se funziona che le coordinate di di questo mondo hanno cioè coincidono con coordinate di no no assolutamente no 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 va bene raga per oggi ci fermiamo qui anzi no prima voglio finire questa cavolo di farm riempirla tutta per completarla dai dai quanto mi ne dati? 18 non pensi che abbassino arriviamo dai arriviamo dai ok qua siamo da posto che dai mi sa che si ce la facciamo completare ok vediamo si si perfetto cioè anche oggi abbiamo fatto dei progressi quindi ragazzi per questo è tutto io direi che ci possiamo vedere nella prossima live o al prossimo video è stato un po' di più è stato un po' di più è stato un po' di più Grazie a tutti.